I libri della collana SPM possono essere usati come normali testi didattici da cui attingere brani, esercizi o solfeggi utili per le lezioni. Fin dalle prime unità gli studenti suonano piccoli brani che hanno un senso musicale e che sono quasi sempre riconducibili a generi o stili ben conosciuti, classici o moderni. Accanto al titolo di ogni studio compare il numero della traccia del cd allegato che contiene la registrazione del brano e spesso anche della base minus one su cui l'allievo può esercitarsi.